Io sono Alessandro Genovese, sono finalista al premio Carver 2015 con questo libro, si intitola In Equilibrio Precario, che è una raccolta di racconti. Sono nove storie e ognuna di queste storie è un protagonista. Ciascuno di questi protagonisti vive una situazione di equilibrio, ma soprattutto di precarietà amorosa, esistenziale, lavorativa. E tutti sono accomunati dal fatto che a un certo punto della loro vita capita qualcosa che incrina questo equilibrio, lo mette in crisi e quindi potrà dare una svolta, o forse no, alla loro esistenza. I personaggi sono in qualche modo collegati tra loro, o per legami d'amicizia, o solo puramente casuali. Ciascuno è protagonista di una storia, ma nella stessa storia magari ne vedrete comparire un altro che poi si ritroverà protagonista di un'altra storia. Buona lettura. Grazie a tutti.